Invece il risotto allo zafferano? È un'ostentazione di ricchezza, cioè tu ci metti nel risotto la roba più costosa che hai, questa è proprio una roba da milanesi, tu ci metti la roba più costosa che hai. È una cafonata. È una cafonata che non serve a niente perché, ma poi che sapore c'è allo zafferano? No, è speciale, il risotto allo zafferano è strepitoso. Ma sì, ma perché ci metti il parmigiano e il burro, poi alla fine dice... Questo è vero. Però no, lo zafferano gli dà il kick. Boh, insomma. Poi ci mettono gli ossobuchi. Però l'ossobuchi è di là. Sì, sì, quello ne parla Gadda, chiama i milanesi gli ossobuchivori. Quello ci sta. Abbiamo trovato una cosa buona di Milano. Buono, buono, pure la cotoletta è buona. No, la cotoletta è viennese, viennesi iniziali, quella l'hanno copiata in maniera terribile, come sempre i milanesi copiano. Sono molto contento, la Lombardia l'abbiamo massacrata. Infatti ci tengo a dire che sono lombardo, quindi... E non siamo ancora arrivati a Napoli, non so che succede tra un po'. Grazie. La stessa.